Grazie soprattutto di avermi invitato perché parlare di informatica a non informatici è sempre una bella occasione, cercare di condividere con altri alcune delle emergenze, alcune delle cose importanti che riteniamo star dietro il nostro mestiere. E dunque vedete questo titolo, pensiero computazionale, pensare computazionale, ho variato un poco sull'edizione standard per fare il pari con scrivere, leggere e far di conto, l'infinito, però la locuzione standard è pensiero computazionale, questa frase che fino a un po' d'anni fa nessuno conosceva, neppure gli informatici erano particolarmente addentro a cosa potesse significare, dall'anno scorso è addirittura finita in Italia in un testo normativo. Nella legge 107 del 2015, la cosiddetta legge della buona scuola, questa locuzione è stata usata su tutta una serie di cose, l'animazione digitale all'interno della scuola di ogni ordine e grado, curi soprattutto lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale. Il mio tentativo oggi è cercare di piegarvi che cos'è il pensiero computazionale, perché è importante, quali conseguenze ha all'interno anche della formazione universitaria, però prima di far questo, prima di parlare di quello, vorrei parlarvi un poco del contesto, un contesto che potremmo pensare a prima vista sia un contesto soprattutto tecnologico, ma lo scopo, quello che voglio cercare di veicolare è che questo contesto ha certamente una componente tecnologica, ma ci interessa soprattutto per un altro scopo, ci interessa per le modifiche che porta alla, diciamo così, alla vita quotidiana. Poi torneremo sul pensiero computazionale, cercheremo di tirare delle conclusioni. Contesto, dicevo tecnologico, certamente, c'è certamente un cambiamento che ha a che fare con l'infrastruttura, poi che rende possibile delle applicazioni, e questo però, e questa è la parte più importante, questo ha un impatto sulla nostra percezione della tecnologia. Dunque l'infrastruttura. Oggi abbiamo una rete che permette di comunicare informazioni estremamente sviluppata. Questa qui è una delle tante rappresentazioni artistiche, grafiche della rete che chiamiamo internet, la possibilità, cioè quell'infrastruttura tecnologica che permette ai calcolatori di scambiarsi informazioni. Quando parlo calcolatori parlo anche di questi. Questo qui è collegato a internet in questo momento, i vostri lo sono, e questa possibilità di avere questa connessione dovunque, a poco prezzo, che si sposta con noi, è il il driver tecnologico più grosso dell'innovazione e dello sfruttamento che abbiamo di questa realtà. Dunque, un'infrastruttura tecnologica che ci rende sempre più connessi. Questa è, diciamo, un piccolo grafico della percentuale di connessioni a internet, di persone connesse a internet sulla popolazione mondiale, da una percentuale praticamente irrilevante del 94, la stima per il 2016 è del 46%, nei prossimi quattro anni supereremo di una lunga il 50%, il 50% della popolazione mondiale collegata a internet. Dovete immaginare che ci sono larghe parti della Terra che hanno poca infrastruttura, quell'infrastruttura che abbiamo visto qui non è geograficamente distribuita in modo uniforme, tuttavia fra quattro anni il 60% delle persone saranno collegate, anche perché per la disponibilità di strumenti tecnologici di questo tipo è possibile collegarsi anche da dove l'infrastruttura è meno presente da un punto di vista di, diciamo, di fili. Questa connessione, ma tutta questa struttura, a questa struttura si aggiunge il fatto che le cose che sono collegate su questa infrastruttura non sono solo calcolatori tradizionali, ma sono anche piccoli calcolatorini che sono dentro le cose, le lavatrici, i portoni di casa, spesso anche oggetti di magazzino, possono e oggi lo sono dotati di meccanismi con cui sono collegati alla rete. Questa struttura si chiama Internet of Things, l'internet delle cose, e questo permette una raccolta, uno scambio di informazioni estremamente capillare. Non sottovalutate questo tipo di infrastruttura tecnologica. Il venerdì 21 ottobre del 2016, se voi avete provato a usare la rete, avrete trovato grossi problemi, grossi problemi soprattutto su quelli che si chiama il DNS, il Domain Name Server, cioè l'accesso agli indirizzi IP, perché era stato scatenato un attacco, si chiama un DDoS, un Distributed Denial of Service, negli Stati Uniti, questo attacco è stato scatenato usando i dispositivi collegati a Internet delle cose, delle lavatrici, dei frigoriferi, delle piccole cose che in genere pensiamo che non siano usabili per questo. E siccome sono state pensate fin dall'inizio per fare cose di altro tipo, cioè appunto vedere, controllare che la temperatura sia sempre la solita, monitorare l'andamento dei consumi energetici in casa, non si è pensato neppure alla loro sicurezza, e dunque è stato possibile usarli per scatenare questo attacco. Ma l'aspetto positivo di tutto questo è che attraverso questi strumenti, che sono in primo luogo dei sensori, ma collegati in rete, la rete, il web, diventa sensibile e reattivo alla realtà. È un web che sempre più reagisce alla situazione, all'ambiente, e questo anche perché abbiamo a disposizione degli strumenti estremamente semplici, poco costosi, che l'ambiente lo ascoltano, lo sentono e lo trasmettono a chi lo può elaborare. Finché abbiamo parlato di infrastruttura, soprattutto infrastruttura tecnologica, ma sbaglieremmo di grande se pensassimo che questa è la cosa più importante. La cosa più importante oggi non è l'infrastruttura tecnologica, non è la ferraglia, non sono i fili o i senza fili che permettono la comunicazione, ma è il software che utilizza queste strutture. Una bellissima frase di cinque anni fa, un saggio di Mark Andresen, software is eating the world. Il software si sta mangiando tutto, tutto sta diventando softwareizzato, c'è bisogno, usiamo software dappertutto. Andresen oggi è un venture capitalist, un signore con tanti soldi che li investe in tecnologia, ma è uno dei realizzatori di Netscape, uno dei primissimi, di Mosaic prima, il primissimo browser pubblico nel 94-93. Tanto per darvi un'idea su questa trasparenza, c'è un'indicazione di quanto software viene usato in varie applicazioni. Windows Vista è un sistema operativo di media grandezza, diciamo che utilizza 60 milioni di righe di codice, 60 milioni di righe di programmi, ma un'auto di grandissima gamma, di altissima gamma, oggi ne ha 100 milioni di righe di codice, che servono a gestire la frenata a gestire la guida, a gestire l'interazione col mondo, a gestire il posteggio. Il software sta mangiando tutto, sta diventando una applicazione, le applicazioni sono dovunque e sfruttano l'infrastruttura tecnologica ovviamente per fare cose, per fare cose per rendere la tecnologia sempre più usabile, vicina, diffusa. Devo dire che l'immagine che ha dato Cipriani prima di una tecnologia che rende difficili le cose è un po' una forzatura, è il modo sbagliato di usare la tecnologia e noi abbiamo tecnologie che invece la rendono più semplice, tecnologie che rendono vicina l'infrastruttura. L'altra questione, oltre al software, l'altra grande presenza che abbiamo oggi in questo contesto è quella dei dati. Produciamo dati, che questo voglia dire, produciamo dati, produciamo delle cose che sono elaborabili ad una frequenza che non si è mai vista sulla faccia della Terra. Ogni giorno sono prodotti 2.500 x 10 alla 15 caratteri di informazione. Se li stampiamo su dei dischi blu-ray, sono spessi un millimetro e due, e i blu-ray sono belli gonfi, ci possono mettere tanti dati su un disco blu-ray, ogni giorno si fanno quattro torre Eiffel di altezza. Ogni giorno vengono prodotti i dati con questa frequenza. Il 90% dei dati di oggi è stato prodotto negli ultimi due anni. Questi dati sono dappertutto, sono big data. Ce li abbiamo, potremmo, possiamo utilizzarli, ma ovviamente utilizzarli, non possiamo utilizzarli con la tecnologia passata, perché ne abbiamo tanti, troppi. L'avete sentito tante volte. Prima il problema era avere a disposizione i dati, oggi ne abbiamo tanti, abbiamo il problema di come utilizzare quei dati. Per cosa li utilizziamo? E farò qualche osservazione, farò qualche osservazione tra poco. Questo dunque è il cambiamento digitale, il contesto del cambiamento a cui mi riferisco. E tutto questo passa attraverso il web, attraverso questa infrastruttura che usa una sola tecnologia fondamentalmente, che è quel protocollo HTTP che è usato dappertutto, e attraverso quella tecnologia possiamo far passare delle applicazioni sempre nello stesso modo. Cioè quella stessa tecnologia permette di raggiungere le persone, le cose, in modo capillare. Attraverso un'unica tecnologia abbiamo la disponibilità di tante applicazioni diverse. E questo sta cambiando completamente la realtà. E la sta cambiando in primo luogo nelle discipline. Oggi tutto è digital. Non si può più fare una professione qualsiasi senza avere una componente digitale. Non si fa più l'ingegnere meccanico. Perché la meccanica è digital manufacturing. Non si fa più, l'industria è radicalmente cambiata, sta radicalmente cambiando. Tanto che perfino il governo italiano mette su una struttura di missione per l'industria 4.0. Cioè un'industria in cui la tecnologia, l'informazione, l'elaborazione, tutto questo è radicata all'interno dello sviluppo industriale. Ma si fa digital design, si fa digital humanities, si fa digital chemistry, computational chemistry, computational astrophysics. La Commissione europea ha lanciato quattro anni fa un grosso progetto per la e-leadership, cioè per formare e riformare i livelli manageriali con competenze digitali. Perché quella competenza è essenziale per la comprensione anche dei processi economici. Non si può più fare il manager se non c'è anche quella competenza. Ma più interessante per me oggi qui è richiamare la vostra attenzione sul fatto che è digitalizzata la vita quotidiana. La nostra vita quotidiana è digitalizzata in una maniera impensabile solo dieci anni fa. Per chi non aveva gli occhi lunghi. Vi faccio alcuni esempi qui. La prima, il messaggio che voglio dare è che questa digitalizzazione non è per nulla neutra. Influenza è una cosa importante che dirò alla fine. Comincerò a dire proprio. La prima è un aneddoto personale che ho già detto in altri contesti. Qualche anno fa, cinque anni fa mi sembra, ho regalato a mio padre, aveva già più di un'ottantina d'anni, un iPad. Gli regalo un iPad e la prima cosa che mi domanda è ma dove sono le istruzioni? Mi devi dare le istruzioni perché non riesco a usarlo altrimenti. Dopo un po' sto riuscendo a trovarlo anche queste istruzioni, la settimana dopo queste istruzioni erano tutte sottolineate, tutte annotate, evidenziate. Se io l'iPad lo do a voi, voi l'avete già avuto, l'avete avuto qualche anno fa, nessuno di voi chiede quali sono le istruzioni, chiede dove sono le istruzioni. Ma non perché voi lo sapete usare, non perché lo sapete usare di più, ma perché voi e chi come voi, più giovani di voi, vede questa tecnologia non come una cosa diversa, ma come una cosa che abita il vostro mondo. Non si chiedono le istruzioni per giocare con il gatto di casa, non c'è il libretto di istruzioni dell'altalena del parco pubblico, perché quella è l'interazione normale e si impara a ragionare, a interagire, a usare queste cose con l'uso, con l'interazione. Secondo esempio, vi dicevo grande disponibilità di informazione. Certo, facciamo un esempio sulla cartografia. Fino a 25 anni fa, 30 anni fa, un grande patrimonio di una famiglia colta era avere le carte in casa. Era una vera discriminante, più dei libri, era una famiglia colta che aveva viaggiato, in casa c'era l'Atlante, poi c'erano un po' di carte del paese dove uno viveva e poi le carte delle città dove si era vissuto. Ora questa cosa non c'è più, perché abbiamo a disposizione dei dati, delle informazioni che rendono presente la cartografia dovunque, in qualsiasi momento. Certo, però vedete, in questo modo abbiamo uniformato l'elaborazione di quell'informazione. Vi dicevo, c'è tanta informazione, sì, ce l'abbiamo tantissima di informazione, ma in questo campo particolare abbiamo un solo modo di elaborarla, che è Google Maps o Apple Maps, che è assolutamente equivalente. Quell'informazione ci viene veicolata in una maniera preconfezionata, standard. Quel che ci vuole, potremmo dire per la ricerca di informazioni su Google, quando quell'elaboratore di informazione ha deciso di darcela in un certo modo, quella è, e noi la vediamo solo attraverso quell'interfaccia. I miei colleghi che si occupano di accessibilità, accessibilità, sapete cosa vuol dire? Tutti? Accessibilità è un termine tecnico che riguarda l'uso delle tecnologie da persone diversamente abili, disabili. Dunque, tutti i miei colleghi che si occupano di accessibilità dell'interfaccia mi dicono, questa cartografia è inutilizzabile da un disabile motorio, perché non rappresenta in nessun modo, rappresenta di uno scalino, rappresenta di una scala, rappresenta di un ostacolo. Dunque, abbiamo uniformato e abbiamo perso la variabilità, la differenza nella presentazione di questi dati. Non c'è bisogno di essere Dennis Wood, Dennis Wood per chi non lo conosce ve lo consiglio, è un cartografo anarchico che ha fatto carte stranissime delle cose. Questa è la stessa carta di questo stesso luogo, Boylan Heights, ma è la carta delle zucche di Halloween. Ha registrato la locazione delle casse, delle villette, dove c'erano delle zucche di Halloween accese la notte di Halloween. Questa mappa ci dà un'altra informazione rispetto a questa, ma ce ne dà tanta, sapete, ci dà informazioni su quale è il quartiere residenziale e quale non è un quartiere residenziale, ci dice quali dei quartieri residenziali è più affluent, ha più disponibilità economica, ci sono delle famiglie, perché chi non ha disponibilità economica non ha certamente neppure il tempo e la possibilità di fare la zucca, di accenderla. Tutto questo in questo momento non c'è con questa tecnologia. Continuo su questo aspetto della cartografia digitale. L'uso della cartografia digitale ci ha cambiato radicalmente l'esperienza di viaggio. Prima, e qui parlo alla prima fila, mi sa, soprattutto, quando andavamo in una città che non conoscevamo e avevamo tempo di farlo, prima citturavamo una carta, poi cominciavamo a guardarla, quella carta, prima di andare. E guardare quella carta voleva dire costruire un modello mentale di quel luogo. cominciavamo a cercare di orientarci quali erano le direttive principali, rispetto a cosa posso orizzontare il mio andare, il mio visitare quella città. E la visita, la visita reale della città, era un confronto, era una verifica del modello mentale, una modifica del modello mentale nell'esperimento. Oggi è tutto diverso. Oggi, realtà e rappresentazione, la realtà che visitiamo e la rappresentazione cartografica digitale che sperimentiamo nello stesso momento, contemporaneamente, non c'è più un modello costruito che viene verificato. C'è una costruzione incrementale di un modello che ovviamente costruiamo dentro di noi, perché altrimenti non sapremo orizzontarci in quella realtà. la tecnologia ha cambiato la nostra rappresentazione della realtà, cambia il nostro modo di vedere, di interagire con la realtà. È un altro esempio rispetto a quello dell'iPad, ma siamo sullo stesso tema. L'ultimo esempio. Chi è che non sa da dove sono prese queste fotografie? Alzi la mano chi non sa da dove sono prese questa fotografia. Tutta la prima fila sa che cosa sono? Faccio le domande? Queste qui sono prese da Pokemon Go. La realtà aumentata, cioè un gioco che, in modo molto banale, si integra con la realtà, con la rappresentazione, in questo caso con la telecamera dello smartphone. Direte, dico io, insomma, un giochino da poco, un uso della realtà aumentata rudimentale. Certo, ma pensiamo di farlo, pensiamo di usare le stesse tecnologie a Pompei. siamo a Pompei e con il telefono visualizziamo una rovina e il telefono ricostruisce sopra quell'immagine che io ho una possibile ricostruzione di quello che era Pompei. Direte, l'abbiamo già visto a Superquark. Certo, avete visto a Superquark, ricostruito prima, ma adesso abbiamo la tecnologia per farlo on demand, lì, in quel momento. E come Pompei lo possiamo fare in tanti altri contesti. Di nuovo, una tecnologia che ci cambia il modo di vedere la realtà. Sono protesi, sono protesi estese che non sostituiscono le nostre facoltà, ma che aumentano e forniscono nuove sensazioni e nuove potenzialità. sono innaturali? Sono protesi che sono aggiunte? Bah. Chi di noi ha un amputato che a un certo punto ci dice che sente la protesi naturale diremmo che sbaglia? Sono protesi. Più naturali sono e più fanno il loro mestiere. Dunque, il contesto tecnologico, la sto facendo troppo lunga, il contesto tecnologico, che diviene un contesto di applicazioni, usa tecnologie anche vecchie, sono vecchie di 20, 25 anni, di 30 anni, ma attraverso la modalità con cui la sperimentiamo cambia radicalmente l'esperienza. Negli ultimi dieci anni è cambiata radicalmente l'esperienza della tecnologia e della realtà. e questo ovviamente è vero soprattutto per i nativi digitali, per le persone che hanno 20 anni oggi o ne hanno meno. Per loro il digitale, per voi il digitale, è integrato in un'unica esperienza della realtà. Per quel che conta l'esperienza personale, io lo vedo nelle mie figlie, la figlia di 25, la figlia di 22, hanno un'esperienza completamente diversa dello strumento e dell'uso dello strumento. E dunque, permettetemi di essere un pochino, di forzare un pochino la mano, la distinzione tra natura e arte, fra physis e tecnè, è una distinzione che sta sfumando. Non sono più in opposizione. Non c'è più una cosa che è la physis, è una cosa che è la tecnè, diverse, create in modo distinto. Abbiamo una percezione della realtà che è una percezione congiunta che viene di natura e arte, di natura e tecnologia. Quello che alcuni, vi dicevo alcuni pensatori con gli occhi lunghi, avevano visto, ad esempio, il termine infosfera, coniato sul calco di biosfera, che Luciano Floridi, il filosofo italiano Oxford, conia nel 99, vuole andare proprio verso questa prospettiva. Una percezione integrata della natura aumentata attraverso la tecnologia. E allora, adesso finalmente arriviamo. A quale livello vi propongo il ragionamento sulla formazione? A un livello tecnologico? Dunque, quello che conta è la formazione tecnologica? Sapere usare questi strumenti? No, non è quella. Chi riconosce questa fotografia? Chi è questo signore? Questo signore è gentile. Questo signore è gentile. Il fascistone, il presidente dell'Accademia d'Italia, il direttore della scuola normale, il filosofo, ma anche il ministro della pubblica istruzione, che riforma la scuola italiana con quest'idea che il V secolo avanti Cristo e il latino e il greco sono fondamentali per l'interpretazione della realtà. Non l'interpretazione della realtà del V secolo, ma sono una lente, un modo concettuale per interpretare la realtà delle professioni. Io credo che sono dei criteri di intelligibilità della realtà. Noi ci dobbiamo porre esattamente nella stessa situazione. ci dobbiamo porre in una situazione in cui non guardiamo il dito, la tecnologia, ma guardiamo la luna, che è ciò che sta dietro la tecnologia. Quello che la tecnologia in questo momento ci sta facendo fare, ci sta facendo sperimentare. Ed ecco che arriva il pensiero computazionale. Il pensiero computazionale è questo sostrato, questa cosa che viene dietro la tecnologia, o meglio, pre-tecnologico, pre-tecnologico, pre-informatico. che consente di leggere, sono criteri di intelligibilità di una realtà che non è più la realtà di vent'anni fa, che non è più la realtà di un secolo fa. E dunque, quali sono i contenuti di questo, i contenuti che, secondo me, secondo molti di noi, devono essere a disposizione di tutti, certamente tutti gli studenti universitari, ma di tutte le persone con un minimo di formazione. lo possiamo dire in tanti modi diversi, provo a dirlo in un certo modo. Dobbiamo sapere leggere la trama algoritmica della realtà. La realtà che, insomma, sappiamo leggere in tanti modi, sappiamo leggere con i criteri della fisica, sappiamo leggere con, vi sappiamo vedere delle simmetrie, vi sappiamo vedere tante. Dobbiamo imparare a vedervi anche una trama algoritmica, vi faccio degli esempi. perché questa trama algoritmica è rilevante per la nostra fruizione della tecnologia. Poi dovremmo, nel pensiero computazionale, leggere questa trama, saperla descrivere in un linguaggio opportuno, in modo tale che questa descrizione sia eseguibile. Non necessariamente sui computer, che sono un accessorio, insomma, uno dei tanti accessori, sia eseguibile su una macchina che può essere benissimo astratta. Facciamo qualche esempio di questa trama algoritmica. e poi ci sono dietro tanti concetti, qui c'è una lista, va bene? L'analisi dei dati, la loro rappresentazione, saper decomporre problemi, generalizzare, riconoscere, automatizzare, algoritmi, che se potessimo essere esposti al pensiero computazionale sin da bambini, assimileremmo come assimiliamo normalmente il concetto di numero, il concetto di simmetria, il concetto di forza, il concetto di massa, il concetto di elemento chimico, tutte cose che non ci servono a fare i chimici, i matematici, i fisici, ma ci servono a far meglio gli architetti, a far meglio l'ingegnere, a far meglio i maestri, a far meglio gli insegnanti di educazione fisica, di scienze motorie. E come tutte queste cose sono collegate agli aspetti linguistici che li esprimono. Partiamo da un semplice compito. Adesso voglio ordinare questo mazzo, voglio ordinare un mazzo di carte. Ci sono tanti modi per farlo. Un modo è di dire, prendo il primo, 8, poi prendo il secondo, è un K, il K viene dopo il 9, dunque sta qui. Adesso c'è l'8, dove va l'8? L'8 va davanti, e dunque si fa così e si mette l'8. Adesso mi tocca un 2, ancora il più piccolo, lo metto davanti. mi tocca un 5, e il 5 dove va, va dopo il 2, dunque lo inserisco. E adesso c'è il 7, il 7 va dopo il 2, dopo il 5, va prima dell'8, dunque lo metto qua e vado avanti. Questo è un modo di ordinare, di ordinare le cose. Si chiama insertion sort. Non è l'unico ovviamente. Anche un bambino, l'esempio è, anche un bambino se ci penso un attimo può immaginare altri metodi. Ad esempio, destrae 1, 8, e lo mette qua. E dice, beh, adesso, come devono andare gli altri? Ma dipende, sono più grandi o più piccoli. Io ho, il 2 è più piccolo, 2 va alla sinistra, il 5 è più piccolo, va a sinistra, il 7 è più piccolo, va a sinistra, il 9 è più grande, ah, allora va a destra. Il re è più grande, va a destra, il 10 è più grande, va a destra. E così via, li fa tutti, li separa, li separa, li separa, li separa, li separa, e adesso ha due mucchietti e uno nel mezzo e sa che quello nel mezzo non si sposterà più, è lì. Perché qui ci sono tutti quelli più piccoli, qui ci sono tutti quelli più grandi. E adesso ricomincia, prende questi e comincia, 3, e lo mette qui. E adesso li divide più grandi e più piccoli, destra e sinistra, ma stando dalla parte dell'8. 6 è più grande, va qui, 1 è più grande, è più piccolo, va lì, 4 è più grande, 7 è più grande, 5 è più grande, 2 è più piccolo e va qui. E poi ricomincia, ciascuno di questi lo fanno in solito modo, l'uno, il due. Questo sì, è un altro modo di organizzare le cose, per mettere in... è un altro modo per mettere in fila, per ordinare le cose. Quali di questi sono metodi buoni? Quale è il migliore? Queste sono le domande, questo vuol dire saper leggere la trama algoritmica, saper vedere che per ordinare un mazzo di carte ci sono dei metodi e avere un'idea di cosa voglia dire confrontarli e avere un'idea di come descriverli anche per esempio. Vediamoli in esecuzione. Questo qui è insertion, il primo che vi ho fatto vedere. Si prende il primo, tutte le volte se ne prende uno nuovo, li prende dal fondo e lo mette nel posto giusto. Dopo un po', qui sono una ventina di carte, dopo un po' sono andati tutti al posto giusto. Vedete, si va a cercare la posizione, lo fa all'arrovescio di quello che facevo io, parte dal fondo e li mette in posizione giusta. Il secondo modo, quello che ho chiamato l'altro modo, si chiama quick e è questo. Questo qui è un modo un pochino più difficile, meno intuitivo da visualizzare. Prima mette quelli nel mezzo e poi ripete questo procedimento e fa così. Sono due modi di progettare algoritmi diversi. Il primo è la ripetizione di una scansione lineare, non c'è bisogno di chi vi spieghi cosa vuol dire, stiamo ripetendo una scansione lineare. E l'altro è un po' più complicato da descrivere. Per descriverlo bisogna avere un po' di competenze linguistiche. Non bisogna essere dei programmatori, non bisogna essere degli informatici, ma bisogna avere delle competenze linguistiche per descriverlo. Usa una tecnica che si chiama divide-timpera e più tecnicamente usa un modo di progettare che è ricorsivo. Cioè usa una soluzione che specifica la soluzione usando la stessa tecnica. Ho diviso il pacco, poi il pacchetto a destra lo ordino nello stesso modo. Lascia stare, lascia stare. Ops. Il pacchetto a destra lo uso nello stesso modo. Non tocco più nulla, basta. Eccoli qua. Quali di questi è meglio dell'altro? Qui c'è inserzione, c'è quick, c'è un altro modo ancora che si chiama l'ordinamento per fusione. Quali di questi è il migliore? Li possiamo confrontare da un punto di vista per esempio dell'efficienza? Beh, direi che non c'è dubbio, eh? Che il primo certamente non è quello più veloce. E stiamo ordinando 20 cose. Pensate se ne ordiniamo 200 o 2.000 o 2 miliardi. E lui è ancora lì che aspetta. Dunque è evidente che li posso confrontare, è evidente che qualcuno è migliore dell'altro. Forse sarebbe bene cominciare a saperle queste cose, saperle fin da bambini. E questo è come li descriviamo, eh? Lasciamo stare, eh? Il secondo, vedete, è la definizione di quick sort, ma dentro stiamo usando lo stesso nome, è una definizione ricorsiva, usiamo la stessa espressione che stiamo definendo all'interno dell'espressione che definisce. Non vi sto facendo lezione su questo, ma semplicemente su farvi esempi. Dunque, facciamo un secondo esempio di trama algoritmica. Avete domande? Eh? Questo era facile, eh? Era evidente che c'è un metodo per l'ordinario delle carte. Adesso una descrizione di un processo di apprendimento. Per esempio, riconoscere una forma geometrica, riconoscere una cifra scritta a mano, rispondere a semplici domande di routine, giocare a tris. Tutte cose che si possono, e sappia, c'è una componente algoritmica qui, eh? Si possono, si possono descrivere mediante delle cose che apprendono. E guardate che non sto parlando di cose futuribili, è oggi, eh? Bosch Connected Parking, verso la guida automatica, Tesla, la macchina che guida da sola, Google Car, tutte, tutte tecnologie che, mediante apprendimento automatico, sanno fare dei compiti tutt'altro che trascurabili. Oppure, DeepMind, eh? Che, nel, sei mesi fa, ha vinto, il campione, ha vinto contro il campione mondiale di Go. Go è un, è un, un gioco terribile, ha una quantità di, di configurazioni enorme, e non può essere affrontato in forza bruta come oggi si affrontano gli scacchi, Eppure, mediante, mediante, un processo di, di apprendimento, DeepMind è in grado di battere il campione. Ma, ma, nello stesso modo, c'è tecnologia che fa analisi finanziari e specula in borsa e che manderà fuori mercato tutta una serie di analisti finanziari che perderanno il lavoro. ci sono risponditori di call center, migliaia di persone stanno perdendo il lavoro nei call center in questi giorni perché i risponditori automatici hanno raggiunto una tecnologia tale da essere in grado di sostituire il risponditore. Sanno fare operazioni chirurgiche in corpore vivi automatiche, non si possono fare, sono illegali, ma c'è la tecnologia per farlo. Come si fa, come si fa, dov'è la componente algoritmica qui? Beh, insomma, questa è un po' più delicata, ci sono delle reti in cui bisogna definire alcuni parametri, bisogna apprendere determinati parametri. Qui, in questa figura, la rete è fatta sempre nel solito modo, bisogna definire il valore dei parametri v, doppio e teta. Per definire il valore di quei parametri si fa una fase di apprendimento. Facciamo questo esempio qui, dobbiamo, abbiamo una retta, quella lì, dobbiamo, dobbiamo, in, dobbiamo costruire una retta che distingua la parte di sopra più uno, la parte di sotto meno uno. Funziona così, ve lo faccio vedere, il processo di apprendimento, noi dobbiamo approssimare questa retta, il programma, la tecnologia genera una retta a caso, poi gli vengono presentati un po' di esempi di punti che vengono detti punti che stanno sopra, punti che stanno sotto e si sa se stanno sopra o sotto e il sistema apprende, si autoaggiusta, autoaggiusta quei pesi e vedete che piano piano la retta, la retta questa qui generata all'inizio in modo casuale si avvicina, si approssima alla retta vera e propria. Ecco, vedete questa è la retta generata in modo casuale, questi sono i punti e stiamo facendo addestramento, i pesi si aggiustano e dopo un po' i pesi, il sistema ha imparato, ha imparato questa retta, ha imparato e adesso potremmo fermare l'apprendimento, gli mostriamo un punto e lui ci dice è sopra, è sotto, a seconda se appunto stia sopra o sotto a quello che possiamo farlo ripartire un'altra volta, di nuovo, qui si aggiusta, si aggiusta, si aggiusta, eccola, adesso è più o meno aggiustata. Questo è un esempio molto semplice, è un esempio molto semplice che usa una rete molto semplice fatta così, se le reti vengono messe una sull'altra, le cosiddette reti multistrato, le reti fatte così sono reti che sono in grado di apprendere cose più difficili, come per esempio a riconoscere a riconoscere un carattere scritto, imparare a giocare a go. Facciamo un altro esempio, qui non facciamo il processo di apprendimento, ma facciamo il processo dopo, a una rete, alle reti fatte così, sono stati mostrati dei ballerini che fanno danza moderna, allora, a questa rete gli è stato mostrato solo dieci minuti di danza moderna, e poi gli viene chiesto cerca di riprodurre il ballo di questi ballerini, il movimento di questi ballerini, dunque, c'è stato un training, un addestramento di dieci minuti, la rete genera, produce, crea un ballo, questo è quello che si, e questo qui è quello che la rete genera, come vedete è assolutamente quasi, quasi caotico, non è caotico, ma quasi casuale, adesso la stessa rete viene addestrata, la vediamo addestrata per, dopo sei ore, ha visto sei ore di ballo, e adesso sta generando, sta producendo, si riconosce il ballerino, si riconoscono dei movimenti ragionevoli, il movimento però è ancora poco fluido, è a scatti, la addestriamo ancora di più, la addestriamo per 48 ore, vede 48 ore di ballo, e questo è quello il risultato, il movimento è fluido, è ragionevole, questo non è stata programmata a fare questi movimenti, sta generando questi movimenti sulla base dell'apprendimento, sulla base, è come se avessimo ascoltato 48 ore di Bach, e adesso riproduciamo noi la macchina della musica alla Bach. E dov'è qui, dov'è la componente, dov'è la componente algoritmica? C'è anche qui, non è più dell'effetto, ma è una componente algoritmica del processo di apprendimento, che non è, che non vuol dire il processo di apprendimento umano, è un processo di apprendimento di una macchina, e qui c'è un risultato algoritmico, ma con una descrizione simbolica assolutamente complicata e direi quasi inintellegibile. E dunque, vedete, c'è una, vedere la trama algoritmica qualche volta è evidente, la trama algoritmica, qualche volta è molto nascosta, ma, insomma, dobbiamo, la sfida è quella di riuscire a descrivere, descrivere il processo, descrivere i dati su cui si basa, e rappresentare queste informazioni in modo accoggio. perché gli algoritmi, questa trama algoritmica non è casuale, gli algoritmi vanno per famiglie, ci sono grandi famiglie che condividono aspetti, per esempio, condividono gli schemi di ripetizione, condividono le modalità con cui i risultati parziali si accumulano, condiviscono le strutture dati, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna imparare a vedere questa trama e sapere esprimerla in delle espressioni linguistiche. Alcune sono semplici, alcune sono complesse, e l'esposizione al pensiero computazionale vuol dire sapere acquisire queste forme di espressione, queste forme di interiorizzare batterie di schemi esplicativi che ci aiutano a interpretare, a vedere, a leggere, a riinterpretare. E dunque, mi avvio verso la conclusione, dobbiamo avere queste competenze per vederne problemi, per vederne anche limitazioni, le potenzialità ovvie, ma anche i problemi, le limitazioni, accennavo all'inizio, la disponibilità di tanta informazione che però si traduce in un conformismo di uso di quell'informazione, se non abbiamo, facciamo l'esempio delle carte, se non abbiamo a disposizione delle modalità per elaborarle che non siano quelle che ci fornisce il Google di turno o il Facebook di turno. La disponibilità di queste competenze, di queste metacompetenze interpretative è la chiave della cittadinanza consapevole oggi. Quella lente interpretativa che era il V secolo negli anni XX, oggi deve cambiare. Ci possiamo lasciare anche il V secolo avanti Cristo, ma dobbiamo aggiungere delle competenze delle pre-competenze di interpretazione. E questi, una parte, sono quelli, la capacità di esprimere gli algoritmi. Perché quelli che si chiamano linguaggi di programmazione sono sì linguaggi che esprimono anche un aspetto di programmazione, ma sono e possono essere usati e dovrebbero essere usati come uno strumento per rendere coerente la realtà che vediamo per darne un modello che è un modello dei dati, un modello delle procedure, un modello delle interazioni fra cose, fra persone, fra cose, fra cose e persone, fra l'Internet of Things e l'Internet of People. Tutte queste cose possono essere descritte attraverso linguaggi. Linguaggi, ovviamente, che non sono neutri. Oggi, per descrivere questo fatto, cioè il fatto che esporre le persone a questi linguaggi si usa il termine coding, che non vuol dire imparare a programmare tutti, tutti nello stesso modo, ma vuol dire avere un'esperienza di programmazione perché l'esperienza di un linguaggio astratto e artificiale segna il modo di guardare alle cose, segna il modo di guardare la realtà. Finiamo con qualche considerazione metodologica. se lo chiamiamo pensiero computazionale, deve essere un pensiero computazionale. C'è una bella frase di Camus. Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime, che cambi in esempio. Dobbiamo interiorizzare questo modo di guardare la realtà. Perché cambi davvero la nostra percezione, la nostra interazione con le persone. da Toscano e parlando in questo contesto non posso dimenticare il priore di Barbiana. Finché ci sarà uno che conosce duemila parole e uno che ne conosce duecento, questi sarà oppresso dal primo. La parola ci fa uguali. Guardate, questo lui lo scriveva per l'italiano, ovviamente, perché aveva a che fare con contadini. Ma oggi lo possiamo ridire parola per parola per la competenza relativamente a questo modo di esprimersi. Cioè, chi non sa queste cose è un contadino del Mugello, è un contadino di Barbiana. E a Barbiana l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese, a nuotare, la statistica, la matematica, si imparavano non per imparare la letteratura, per diventare dei filosofi, per imparare dei nuotatori, ma si imparavano per fare il sindacalista, per fare il muratore, per fare il contadino, per fare il professore. Esattamente la stessa cosa oggi la possiamo ridire. Concludo con un cambiando completamente registro, con un grande monumento della modernità. l'enciclopedia 1751, il primo tentativo dei lumi, il primo tentativo di raccogliere in un unico luogo tutta l'informazione, tutta la competenza di quell'epoca. Guardate, è proprio come il web, il web ha tutta l'informazione di oggi. Questa era e l'enciclopedia è pensata in tre parti. Le prime due ci si ricordano sempre, le arti liberali e le scienze. Ma c'è una terza parte che sono le arti applicate, i mestieri. Raccogliere in un volume i mestieri. come si tesse la stoffa, come si soffia il vetro. Come fare a descrivere queste cose? Ed Iderot nel capitolo introduttivo ha una bella considerazione metodologica. È lì che vuole descrivere come hanno fatto. Abbiamo chiesto ai più abili di Francia, siamo andati nelle loro botteghe, siamo andati a bottega. Però tra mille se ne trova malapena una dozzina in grado di esprimersi con qualche chiarezza sugli strumenti che utilizzano e sulle opere che fabbricano. C'è un problema di linguaggio. Come si fa a descrivere delle cose che la gente sa fare ma non ha il linguaggio per raccontarlo? Allora ci sono le figure e ci sono le figure e questo è quello a cui si rivolgono Diderot e D'Alembert. Oggi le chiameremo inscriptions seguendo la tour. Sono un modo per descrivere delle cose. Ma questo non vuol dire ovviamente che chi non si sa esprimere è stupido perché quello che può dirsi con le parole può essere più limitato di quello che si può fare con le cose. Questo non è più Diderot questo è Sennet del Craftman. Questa è forse la limitazione fondamentale dell'uomo. Il linguaggio non è in grado di rappresentare in modo fedele i modiamenti fisici del corpo umano. E forta l'esempio della bottega Stradivare in cui la competenza del maestro è racchiusa nella mente o meglio nelle mani del maestro stesso. Il web sta uccidendo la classe media tutto diventa automatizzato i librai i tassisti gli agenti gli agenti di viaggio i fotografi i traduttori tutto viene assorbito software is eating the world si salvano giusto le stare gli utai perché non sono sostituibili dalle macchine. Un mio amico Harry Merson è un professore di informatica teorica a Brandeis adesso è a Cremona è tre mesi che è ospite del museo del violino di Verona questa è una frase sua di un articolo recente Functional Geometry il pensiero computazionale fornisce un mezzo per descrivere l'uno all'altro quello che sappiamo fare è un principio di organizzazione intellettuale per comprendere e descrivere il passato e rendere conto delle competenze che si svilupparono e giunsero a maturità perché il passato? Perché lui si interessa di violini ricostruisce violini dà delle astrazioni dà dei linguaggi per ricostruire un amati piuttosto che un guarnieri del Gesù o uno stradivario dà un linguaggio a un linguaggio con la quale si esprime anche quello che prima non era esprimibile il moto di Newton che il moto di Newton numera pondere et mensura deus omnia condidit è lo stesso moto che è scritto nell'aula magna dell'istituto Ciamician qui abbiamo il professor Prodi oh scusa il professor Dore il direttore omnia in mensura et numero et pondere scritto sull'aula magna quel numero che forse in questo senso è un'altra cosa è un numero più geometrico oggi noi lo possiamo davvero interpretare come digital tutto si può risolvere può essere detto ha in essenza questo aspetto digitale ma è nostro compito cercare di vederlo questo digitale vedere questa trama algoritmica in questo tutto grazie grazie a tutti